Un saluto a tutti da Edoardo Ferrari, ben ritrovati con l'appuntamento con la tendenza a medio e lungo termine. Ci concentriamo in particolare nel periodo intorno alla metà di maggio, quindi nel weekend del 13-14, quando a scala europea notiamo un cambiamento dell'impostazione barica sull'Europa, con l'alta pressione che verrà rimpiazzata da un vortice di bassa pressione che allungherà una saccatura proprio sull'Europa sud-occidentale, e appunto di risposta avremo un promontorio di alta pressione afro-mediterranea che dovrebbe spingersi verso i Balcani, interessando marginalmente anche la nostra penisola. In sostanza dunque dovremmo avere tempo in prevalenza stabile al centro-sud, ma soprattutto molto caldo, quindi con anche punte di oltre 28-30 gradi sull'aria interna, in particolare delle regioni meridionali, mentre il nord verrà lambito dalla risposta umida operata appunto dalla saccatura, quindi con correnti più instabili sud-occidentale, occasione per qualche rovescio temporale, in particolar modo sulle Alpi e sul nord-ovest. Non è scuso poi che nei giorni successivi qualche acquazzona temporale riesca a interessare in modo più diretto anche il nord-est, sconfinando occasionalmente sulle regioni del centro. Al nord il clima si manterrà fresco, in particolare sul nord-ovest. Aggiornamenti in tempo reale scaricando l'app di Trebimeteo gratuita per tablet e smartphone.